Salve amici, salve amici, veniamo a un video molto interessante oggi, molto interessante perché ci sono delle cose nuove da dire sul caso di Denise, ma veramente molto interessanti. Partiamo da questo incontro che sembra ci sia stato un contatto, un incontro fra alcuni componenti della Commissione parlamentare con il GIP Sara Quittino. Vedete, è importante che la parte politica abbia contatto con la magistratura perché ciò ha un significato di indirizzo notevole. Adesso non so chi è che abbia preso iniziative, se sia stata un'iniziativa di Alessia Morano, di Carmelo Miceli o viceversa, però è importante perché quando questi due poteri vanno in contatto significa che c'è una collaborazione e probabilmente anche che siamo vicini a una svolta, se non fattuale, a una svolta almeno nell'indirizzo, almeno nella direzione delle cose. perché vedete, la Commissione di inchiesta parlamentare, che certamente non ha, voglio dire, i stessi poteri della magistratura, però io mi auguro che abbia un metodo di lavoro, diciamo, di tipo non induttivo, ma di tipo deduttivo. Mi spiego meglio, il metodo induttivo è quando tu parti da un fatto, da un singolo fatto, e vai a cercare il perché, chi è stato, chi non è stato, chi è collegato a questo fatto. E può essere un po' sviante, perché il metodo deduttivo in questo caso qua è quello migliore, perché bisogna partire sempre dal quadro in generale, perché bisogna partire dai concetti base. una bambina è sparita 17 anni fa, primo settembre 2004, in un contesto di un grande paese, in cui praticamente c'era una faida fra due o tre famiglie implicate, forse più. E quindi è chiaro, il momento è chiaro, chi sono i protagonisti della vicenda. Quindi è da lì che bisogna partire. Quindi io mi sono segnato alcune cose, perché? Sì, perché innanzitutto ci sta questa diatriba molto importante delle intercettazioni ultime, per intenderci quello fu io con Giuseppe, che la mamma Anna Codona dice con la figlia Alice, il fatto del vecchio, l'innominato, Luigi, eccetera, eccetera. Ora, cosa è successo? Che i carabinieri di Trapani hanno scritto queste intercettazioni, le hanno definite chiare ed inequivocabili. Ora, invece, la procura di Marsale, qui che veramente si va in confusione, avvalendosi di un collaboratore, non so come definirlo, alla fine ha dovuto scrivere che queste intercettazioni non possono assumere a rango di prova o di indizio circa la responsabilità dell'indagata Anna Codona né di altri soggetti. Ora, quindi, allora si chiede, allora questo periodo della procura, come mai va in contrasto con i carabinieri di Trapani? Benissimo, allora c'è stato un colpo di scena, sicuramente, perché la difesa, diciamo, la difesa della parte civile, della parte civile Piera Maggio con i suoi legali, hanno nominato, hanno nominato un superconsulente, un superconsulente nella figura, un superconsulente informatico nella figura dell'ingegnere Michele Vitiello. Questo ingegnere, insieme a un team di esperti informatici, di grande fama, conclude, dopo aver ascoltato, aver verificato tutto, conclude, questo emerge la perfetta corrispondenza, ascoltate, emerge la perfetta corrispondenza con quello che hanno ascoltato e riportato i carabinieri di Trapani. Allora come la mettiamo? Io vorrei sapere come la mettiamo. Ma vi è di più, vi è di più, amici, ascoltate. L'ingegnere Michele Vitiello ha anche denunciato come il consulente della procura, udite udite, sia un, è definito un semplice trascrittore senza specializzazioni e che per l'ascolto si è avvalso di un software obsoleto risalente intorno al 1996-97, quindi oltre 20 anni fa, cose incredibili che voi sapete che i software sono aggiornati anno dopo anno, figuratevi. Quindi un lavoro oltretutto fatto superficialmente, in fretta, senza un'analisi meticolosa di decifrazione, di ascolto, di traduzione, di trascrizione, visto che i dialoghi avvenivano in dialetto stretto, quindi non era facile. Quindi, infine, i consulenti della procura non si è, nella sua superficialità, non si è nemmeno avvalso della collaborazione specialistica dei RIS di Messina. Io credo che questa sia una cosa di una gravità eccezionale che si va a sommare alle altre gravità eccezionali di questo caso. Io non mi vorrei, amici, trovare nei panni effettivamente del GIP, Sara Quittino, che secondo me si starà facendo la croce con la mano sinistra, effettivamente. Non lo so cosa pensare. E io credo che quello che si dice, almeno in discrezione, di questo incontro con alcuni componenti della Commissione parlamentare, dopo questo contatto con la politica, come minimo, come minimo il GIP dovrà disposte ulteriori perizie, come minimo, oppure procedere, oppure procedere, cari amici, all'implutazione coatta, nel momento in cui la Anna Corona, che comunque è indagata attualmente, non ha sentito la necessità di chiarire la sua posizione, perché tutto questo bailam che si è detto che si sta parlando da un mese di queste nuove intercettazioni, ma l'Anna Corona, nella sua qualità comunque di indagata, poteva benissimo dire, ma che state dicendo, Luigi è questo, Giuseppe è quell'altro, l'innominato è quell'altro, i vecchi è quell'altro, che non hanno nulla a che spartire con la vicenda. Invece silenzio assoluto. Questo non è una bella cosa. Quindi, questo incontro tra la politica e il GIP la possiamo leggere come suggerimento sulla linea da seguire, però vi è di più. Vi è di più perché, qualcuno dice sempre, ma perché non facciamo fare le indagini a un'altra procura? Questo ovviamente c'è una competenza territoriale, ma nel momento in cui emergessero, che ci sono state in passato, eccetera, delle incerenze sulla procura, se fosse dimostrata questa cosa qui, allora la commissione potrebbe, potrebbe anche chiedere alla costa di Cassazione di spostare la sede di un eventuale processo, la sede in un altro territorio, proprio per un pericolo di turbativa. Cioè, questa voglio dire è una delle ipotesi. Quindi, io credo che questi movimenti sono importanti, perché adesso il GIP si troverà di fronte a una richiesta insostenibile da parte della procura di Marsale, di dire, vabbè, chiudiamo tutto, non c'è nessun indagato. Ma, come è possibile, alla luce di tutto ciò, alla luce di queste nuove intercettazioni che sono state confermate, non solo dai carabinieri di Trapa, ma anche dal super consulente della parte civile, insomma, l'ingegnere Vitiello, e poi si scopre che colui, il consulente della procura, che doveva, insomma, fare la trascrizione, dice no, non si capisce bene. Perché? Perché innanzitutto l'ha fatto in una maniera molto superficiale, usando questo software obsoleto, vecchio, e quindi senza che si potesse analizzare bene e senza un meticoloso lavoro di decifrazione, di ascolto, perché i dialoghi erano in stretto dialetto. Quindi, veramente scandaloso. Quindi, io mi avuto. Mi avuto. Spero che da un giorno all'altro si abbiano delle belle notizie. Spero che da un giorno all'altro si abbiano delle belle notizie, amici miei. Vedete qua? Non se ne può più. Chiudo. Nella parte finale vi voglio leggere l'ultimo messaggio di Piero Amaggio, che giustamente è un messaggio che lei fa ai rappresentanti di questa commissione parlamentare. Un disperato appello, se vogliamo, con la passione di mamma, dice testualmente queste parole. Dice, confidiamo in voi, onorevoli Alessia Morani e Carmelo Miceli e presidente della Commissione Affari Costituzionali dottore Giuseppe Brescia e tutti i gruppi politici, oltre a noi, lo chiedono tanti italiani, costesemente, fate in modo che, in alcuni casi, dove necessita la giustizia, non rimanga solo un'utopia. In un paese civile, il rapimento di una bambina non può rimanere impunito. Quanto meno individuare la responsabilità dei colpevoli, per dire, quanto meno quella, anche se non fosse più in vita la figlia. Quindi, quanto meno la responsabilità dei colpevoli mettendo in campo persone, metodi e mezzi professionali che non lasciano dubbi, ci aiuterebbe a capire meglio. Grazie. È un qualcosa veramente forte, perché quando si parla di mettere in campo persone, metodi e mezzi professionali, si fa un'accusa forte, perché fino ad oggi, evidentemente, le persone individuali, per fare questo tipo di consulenze, di indagine, questi metodi, non sono stati soddisfacenti, anche perché spesso in contraposizione con il lavoro fatto, non so, dai carabinieri o dai RIS. Quindi, certamente, adesso vi è una svolta. E questo contatto, vi ripeto, fra la parte politica e la parte giudiziaria fa ben sperare. Non era mai accaduta una cosa del genere. E quindi ciò fa ben sperare. Io credo che, mi auguro, forse, prima della fine dell'anno avremo questa svolta in cui io addirittura ho di ipotizzare l'imputazione coatta, perché così noi andiamo a discutere di tutte queste cose davanti a un tribunale. e finalmente, anche che un processo durasse anche un anno, ma anche un anno e mezzo, però si mettesse la parola fine a questa storia individuando le responsabilità e ci dicessero come, chi, quanto e come e perché e dove sta e come, che fine ha fatto la bambina. Questa è la risposta che bisogna avere, perché non si devono raccontare frottole, non si deve dire no, perché, voglio dire, quando una persona sparisce e concludo, ci sono persone, tante persone spariscono e non se ne sa più niente, ma in un momento in cui uno sparisce che non ci sono cose familiare, bighe, eccetera, l'uno, magari una persona adulta, può decidere di sparire, di andare via, di far perdere le proprie tracce, di fare quelle che vuole della propria vita, ma quando sparisce una bambina di circa quattro anni e poi, guarda caso, ci stavano tutte queste faite, queste bighe, questi odi che implicavano alcune famiglie, allora non si può dire chiudiamo il libro, non è corretto, amici miei, è una cosa veramente che fa sviluppare pure i defunti, si può dire, non, non, nessuno si può dare pace di questa vicenda e quindi io spero che ci sia veramente un cambio di marcia, quindi mi auguro che mi aiutate a diffondere questo messaggio, questo video e spero di darvi al più presto delle altre belle notizie. Grazie a tutti, un abbraccio, un bacio e ciao a tutti, buona domenica, ciao.